Ma che bontà questi cestini con il pan carré, ripieni di funghi e specche! Versate in una padella dell'olio uno spicchio d'aglio tagliato a metà e filzate in uno stecchino, in questo modo poi farete prima trovarlo ed eliminarlo. Pulite e lavate i funghi, tagliateli a fettine e versateli in padella. Aggiungete del prezzemolo tritato, un pizzico di sale e un goccio d'olio. Fate cuocere a fuoco medio per 15 minuti, poi togliete lo spicchio d'aglio. Stendete le fette di pane con un mattarello. Sistematele poi nella teglia dei muffin e fatele cuocere al forno statico già caldo a 180 gradi per 5-10 minuti. Tagliate il formaggio a piccoli pezzi. Farcite ora i cestini di pane, mettete sul fondo una fetta di speck riempiti con i funghi ed aggiungete i cubetti di formaggio. Concludete poi con un goccio d'olio. Rimettete poi in forno per altri 5-10 minuti, il tempo di far fondere il formaggio. Servite i cestini di pan carré ben caldi e belli filanti. Sono facilissimi e sono buonissimi e se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu.